Dal libro del profeta Esaia, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di succolenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che coprirà la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, calice tra bocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse, Il Regno dei Cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Parola del Signore. Parola del Signore e oggi ci parla del Regno di Dio, di questa società alternativa che il Signore Gesù è venuta a portare, non nel cielo, ma già qui sulla terra. Una società dove la legge è l'amore, la solidarietà, l'essere familiare gli uni degli altri. E Gesù esprime tutto questo con l'immagine delle nozze. Ed è forse uno dei simboli più belli del Vangelo, la festa. Il Regno dei Cieli è una festa, la nostra fede è una festa. Vi ricordate, forse a scuola avete incontrato la poesia del Leopardi, il sabato del villaggio. La donzelletta viene dalla campagna, in su il calar del sole, col suo fascio dell'erba e recca in mano un mazzolin di rose e viole. E poi il Leopardi descrive il villaggio che si sta preparando alla festa che arriva, è il sabato del villaggio. Ad un certo momento arrivano anche le campane. Ora la squilla dà il segno della festa che viene e a quel suono di resti che il cor si riconforta. Le campane che annunciano la festa che sta per venire portano un raggio di speranza nel cuore, lo sollevano, lo confortano. Il sabato, carissimi, è un giorno diverso, dice Leopardi dagli altri, e anche noi lo diciamo. Ha un'unzione particolare, sfugge alla ferialità. Quante volte noi siamo immersi dentro al nostro lavoro, immersi dentro al solito, immersi nello scontato. Quante volte rischiamo di vivere la nostra vita uguale a quella di ieri e domani sarà come oggi. Che cosa ci aspettiamo dalla vita? A volte il nostro sguardo si abbassa. A volte diventiamo senza capacità di aspettarci qualcosa. Ci manca la sorpresa. Viviamo un giorno dopo l'altro, per forza d'inerzia, andando avanti così, facendo il nostro lavoro, vivendo nelle nostre famiglie, vivendo il matrimonio, la scuola, il tempo libero. Ma manca uno slancio, manca una gioia, manca una grinta. Qualche volta ci accorgiamo di essere un po' opachi nel cuore, un po' opachi nell'anima. E qualche volta, se c'è qualcosa da aspettarci, sono in contrattempi le complicazioni, una fatica maggiore. Oggi invece il Signore ci parla di questo regno e di questa immagine straordinaria e bellissima, la festa. La festa, cari miei fratelli, non è tanto una scadenza cronologica. Non è solo un giorno nella settimana. Oggi molti vivono la domenica come un giorno di lavoro. Ma la festa, quella che intende Gesù, è una condizione dell'anima. È uno stato interiore, la festa. È quando precisamente tu ti aspetti qualcosa. Allora puoi vivere qualsiasi situazione della vita. Ma se dentro di te c'è un'aspettativa, una speranza, un'apertura verso il futuro, verso qualcosa di buono e di bello, allora il tuo cuore non è schiacciato. Allora la ferialità della vita, le cose che facciamo tutti i giorni, non appannano, non offuscano, non oprimono il nostro cuore. La festa è quando tu pregusti qualche cosa che sai, essere preparato per te. Non vi pare, carissimi, che noi cristiani dovremmo essere sempre nella condizione della festa? Non vi pare che noi cristiani, che abbiamo una grande speranza? E questa speranza non sono i nostri soldi, non sono la speranza di avere qualcosa di buono, di più, di migliore dalla vita. Perché tutte queste cose passano, ti deludono e i tuoi soldi li lascerai qua. Qual è la grande speranza che ti fa diventare festa? Che cosa ti rende lieve il cuore? Qual è il segreto che ti permette di non essere schiacciato dalle cose della vita? Chi è la tua festa? O che cos'è la tua festa? Terribile se la tua festa è qualcosa. Straordinario se la tua festa è una persona. E ancora di più se la tua festa è il Cristo Signore. Ecco, noi aspettiamo questa festa. È il Regno dei Cieli. Ed è anche qualche cosa che noi possiamo già cominciare a costruire ora, con gesti di bontà, con gesti di bene. E in questa festa noi facciamo entrare questi bambini oggi con il Battesimo. E questo è il regalo che si porteranno via i nostri nuovi fratelli e le nostre nuove sorelle dal sacramento che ricevono. Una speranza che nessuno potrà rubare loro. Una speranza che rimarrà fissa nel cuore, certa. Perché è fondata sulla risurrezione di Gesù, che è risorto dai morti, che ha sconfitto la morte e tutte le lacrime e tutti i dolori e tutte le croci, anche le nostre. Questa grande speranza solleva il cuore. È il nostro sabato. È la nostra consolazione. La speranza che si chiama Dio, Trinità, il Signore Gesù. La vita eterna. E ciò che di vita eterna possiamo costruire qui. Nella parabola il padrone manda i suoi servi ai crocicchi. È interessante perché nel greco non c'è crocicchi. C'è il posto dove finiscono le strade e iniziano i sentieri di campagna, cioè le periferie. E allora penso che oggi potremo portarci via anche questa sottolineatura. Portare la nostra festa, quella che respiriamo qui, quella che l'Eucarestia alimenta, che la nostra comunità custodisce, questa festa portarla là dove finiscono le strade, là dove gli uomini si sentono smarriti, là dove non ci sono più sentieri. Che bello poter portare il sorriso che oggi abbiamo ricevuto qui, la speranza che abbiamo rinnovato qui. Portarla là, nelle periferie dove ci sono uomini che cercano, uomini che non hanno più speranza, che hanno solo il cuore pesante. Portatelo oggi a tutti quelli che incontrerete questa gioia, questo sorriso. Portate questa festa, questa speranza grande. Portatela con l'espressione del vostro volto, con il cuore leggero che ci ritroviamo tutti alla fine di questa celebrazione. E il Signore sia con voi perché possiate essere di quelli che andando nel vostro luogo di lavoro, nel tempo libero, nel giro delle amicizie, possano dire sempre venite alla festa perché certo è una gran bella festa quando c'è il Signore Gesù, quando Cristo vive nei nostri cuori.